Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che vedrà un ulteriore allontanamento verso est della perturbazione transitata durante il weekend nelle regioni meridionali, quindi tempo che torna a essere bello un po' in tutta Italia. Lo verifichiamo anche dalla nuvolosità attesa sul nostro paese, come vedete prevalenza, il cielo sereno, poco nuvoloso, passa qualche velatura al nord ma senza grandi conseguenze. Inoltre precipitazioni a questo punto quasi del tutto assenti, nelle ore pomeridiane magari qualche breve piovasco potrebbe interessare ancora le zone montuose del sud, in particolare l'Appennino-Calabro-Lucano e poi nel pomeriggio qualche breve piovasco anche sugli Alpi. Ma in definitiva ci attende lunedì sostanzialmente bello in tutta Italia, prevalenza, il cielo sereno, poco nuvoloso e con temperature diurne ancora più estive che autunnali continuiamo a toccare localmente e superare i 30 gradi. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.